Musica Era nell'aria ma oggi la conferma è arrivata. La Lombardia torna in zona rossa per gli impianti di risalita, se ne riparla dopo il 15 di febbraio. I ragazzi delle superiori restano a casa, didattica a distanza anche per le seconde e le terze medie. Ennesimo stop per numerosi negozi. Disastro ristorazione. La salita del numero delle persone che necessitano cure ospedaliere per il Covid-19 non si arresta. Con ogni probabilità al Morelli sarà necessario riaprire uno dei reparti chiuso poco dopo Natale. I dati di compartigianato imprese diffusi quest'oggi dipingono una realtà poco incoraggianti per parrucchieri ed estetisti. Troppi stoppi improvvisi alle aperture, nonostante i saloni di bellezza, osservino rigorosamente le misure anticontagio. Il Presidente o regioni, così danni irreversibili. A Talamona c'è un bar che detiene un record. In 25 anni di attività, ben tre vincite milionarie, tutte con il grattevinci. L'ultima soltanto pochi giorni fa. Niente da fare. Da domenica Bolzano, Sicilia e Lombardia tornano in zona rossa. Per molti settori un ulteriore stop che porta alla situazione a livelli tragici. Didattica distanza d'oltranza per le scuole superiori e da lunedì anche per seconda e terza media. E almeno un altro mese di stop per gli impianti di risalita. Critico il Presidente della Regione Attilio Fontana. Non condividiamo l'ordinanza in Lombardia. Negli ultimi 15 giorni la situazione è migliorata, almeno per classificarci in zona arancione. Attendiamo l'ufficialità del Ministero. Dice ma siamo pronti a presentare il ricorso. Vediamo. Credo che la zona rossa sia sinceramente una punizione che la Lombardia non si merita. Perché ha fatto tanti sacrifici in questo periodo. I cittadini si sono comportati tutti molto bene e onestamente la zona rossa è estremamente penalizzante. Il problema vero è che questo conteggio dell'RT è una cosa innanzitutto estremamente opinabile. E soprattutto si riferisce a dati vecchi. E quindi se c'è stata un'evoluzione di questa evoluzione non si tiene conto. Onestamente credo che la Lombardia non si meriti il rossa. Il timore era fondato ed è diventato realtà. Realtà, disappunto o disperazione. Comunque lo si veda ultimo giorno arancione domani per noi lombardi. Da domenica in compagnia di Bolzano e della Sicilia la Lombardia tornerà di nuovo in zona rossa. Il premier Giuseppe Conte ha firmato il nuovo DPCM contenente le misure anti-covid valide fino al 5 marzo. Quasi tutta Italia finisce in zona arancione e permane il divieto di spostarsi tra regioni fino al 15 febbraio. Chiusi fino al 15 febbraio anche gli impianti di sci, mentre palestre, piscine e cinema fino al 5 marzo. Cibo e bevande potranno essere acquistati nei bar fino alle 18. Veniamo a ciò che a noi in zona rossa fino a un nuovo avviso toccherà rispettare. Capitolo spostamenti. Vietato ogni spostamento anche all'interno dei comuni, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Si può andare una sola volta al giorno nel proprio comune, tra le 5 e le 22, a casa di amici e parenti, al massimo in due persone. Non si contano minori di 14 anni e persone disabili o non autosufficienti conviventi. Per quanto riguarda la scuola, restano aperte scuola dell'infanzia, scuola primaria e servizi educativi per l'infanzia e il primo anno delle medie. Le altre attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Passando ai negozi, stop alle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari di prima necessità. Stop ai mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie. Chiusi, invece, i ristoranti e bar, ma è sempre consentito l'asporto, fino alle 22 per i ristoranti e fino alle 18 per i bar, consentito anche il delivery. Quanto al capitolo sport, sospese tutte le attività anche nei centri all'aperto. È consentito svolgere individualmente attività motorie in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con mascherina. È consentito anche lo svolgimento di attività sportiva, esclusivamente all'aperto e in forma individuale. Tre morti e 32 ricoveri negli ultimi quattro giorni, tanto che ormai è quasi certa la riapertura a sondalo di un nuovo reparto, peraltro chiuso soltanto poche settimane fa. Queste le notizie del Morelli, mentre il report di ATS della Montagna parla per Valtellina e Valchiavenna di quattro decessi e 76 nuovi casi di positività tra la popolazione. Di questi, ben 19 sono tra l'altro ospiti di case di riposo. Per quanto riguarda invece il personale dell'azienda sociosanitaria, sono state vaccinate circa 2.300 persone, sul totale di 2.945 dipendenti, per una percentuale che sfiora l'80%. Il servizio. 32 ricoveri negli ultimi quattro giorni, tanto che ormai è quasi certa la riapertura di un nuovo reparto, peraltro chiuso soltanto poche settimane fa, subito dopo Natale. L'aumento dei malati Covid-19 che necessitano di cure ricoverate d'ospedale Morelli, registrato a partire dalla prima settimana del nuovo anno, non si arresta. Oggi sono 107, di cui 11 in terapia intensiva e 10 in subintensiva. Attualmente tutti i malati Covid-19 sono ospitati nel primo padiglione, ad eccezione di quelli ricoverati nella terapia intensiva del quarto. I dati che lasciano presagire un peggioramento della situazione sono quelli riferiti ai nuovi ricoveri, 32 appunto negli ultimi quattro giorni, a fronte comunque di una ventina di dimessi. Purtroppo sono poi da registrare altri tre morti, due donne e un uomo. La SSI Valtellina e Altolario, in accordo con ATS della Montagna, prosegue intanto la somministrazione del vaccino alle categorie individuate tutti i giorni, sabato e domenico compresi, in orario continuato. Per quanto riguarda il personale dell'azienda, sono state vaccinate circa 2.300 persone, sul totale di 2.945 dipendenti, per una percentuale che sfiora l'80%. Trattandosi di operatori sanitari, è una percentuale abbastanza sorprendente, pur volendo considerare che ne mancano alcune decine già programmate, mentre per altre situazioni, ad esempio la gravidanza o l'allattamento, la vaccinazione viene sconsigliata. Ad oggi, presso l'ospedale di Sondrio, sono state consegnate 9.360 dosi di vaccino. Da lunedì, i 50 vaccinati durante il V-Day del 27 dicembre scorso, riceveranno la seconda dose, il cosiddetto richiamo. E ora parliamo di benessere, settore produttivo e occupazionale, che nella nostra provincia vede 450 imprese operanti tra parrucchieri ed estetisti. Un comparto messo particolarmente alla prova dai riflessi del Covid-19 e dal clima di incertezza causato dai repentini cambi di colore e che comportano chiusure delle attività. Ce ne parla Giuliano Padroni. Nella provincia di Sondrio sono 450 le imprese associate al settore benessere di confartigianato imprese. Di queste, 315 appartengono al ramo degli acconciatori e 135 a quello degli estetisti. Uno studio effettuato recentemente dall'associazione di categoria e reso noto quest'oggi dipinge una realtà occupazionale che tanto potrebbe potenzialmente, ma che purtroppo, a livello di prospettive di crescita, si ferma ad un 26,3%, con un 44,7% di previsioni di stabilità ed un 28,9% che prevede una diminuzione del proprio lavoro. Dati che non consolano in una provincia specchio di una nazione messa a dura prova dagli effetti della pandemia. Nelle zone rosse, le estetiche, i negozi estetiche abbiamo dovuto chiuderli e non siamo riusciti a tenerli aperti come i parrucchieri. E' chiaro che comunque tutto il settore ne ha risentito, anche il parrucchiere nonostante sia stato aperto, gli accessi sono molto diminuiti e c'è sempre questa grande incertezza. Nello scenario di una regione Lombardia nuovamente in zona rossa, ciò che maggiormente sfugge non solamente agli addetti ai lavori è il perché di una chiusura, quella destinata al settore degli estetisti, nonostante proprio in questa tipologia di attività commerciali vengano garantiti standard di sicurezza e di rispetto dei protocolli anticontagio veramente alti. Perché le misure di sicurezza sono uguali anche nell'estetica rispetto al parrucchiere, se non migliori. Questa cosa tra l'altro ci porterà anche a un doppio problema, perché essendo che in un'attività come la nostra, per esempio, l'estetica attività secondaria, non avremo neanche ristori. Ma in ogni caso, anche per tutte le piccole aziende che svolgono solo estetica, sono attività primaria, sappiamo benissimo che i ristori non sono assolutamente sufficienti. Una categoria la vostra che già dapprima si trovava a dover combattere con piaghe, come ad esempio quella dell'abusivismo. Sì, l'abusivismo è una questione che ci portiamo avanti da decenni ormai, ed è veramente difficile da contrastare. Un problema che abbiamo riscontrato dal nostro ultimo sondaggio, ma del quale ne eravamo già conoscenza, è molto difficile per le imprese artigiane passare da una persona ad avere anche solo un dipendente, perché per avere un solo dipendente, tutti gli adempimenti burocratici, strutturali, ai quali l'artigiano deve adempiere, rendono completamente controproducente la cosa, e quindi tante persone scelgono la strada più facile dell'abusivismo. Quali sono gli auspici per questo 2021? Ma gli auspici per il 2021 è che venga fatto il più presto possibile il vaccino, su larga scala, sensibilizzare la popolazione finché capisca che il vaccino non è pericoloso, sperando che questo ci porti fuori il più presto questa situazione che non è più assolutamente gestibile. L'incertezza, il vivere giorno per giorno, non sapere cosa succede domani, la mancanza di programmazione, mettono veramente in serie difficoltà l'esistenza stessa della maggior parte delle nostre aziende. Il Baritalo di Talamona, baciato dalla Dea Bendata, per la terza volta un biglietto gratta e vinci evalse una vincita milionaria. La fortunata si è portata a casa addirittura 500.000 euro. Simone Belletti Non c'è due senza tre. Quanto mai azzeccato si è rivelato il detto in questa occasione. Siamo a Talamona, Baritalo. Pochi giorni fa la sorte ha colpito un'altra volta l'esercizio. Una donna di mezza età con un biglietto gratta e vinci da 5 euro ha vinto la bellezza di 500.000 euro. Grazie a tutti. Singolare il modo in cui la fortunata è venuta a conoscenza della vincita. Un fatto assolutamente eccezionale. ma non per il Baritalo dove la Dea Bendata non è nuova a farsi viva. Un vero e proprio record anche a livello italiano. Difficile credere che altre ricevitorie siano baciate da una fortuna così spacciata. È stato il numero 26 a regalare la vittoria alla fortunata. Un segno del destino secondo i baristi, visto che il 26 è il giorno di nascita di papà Italo, fondatore del bar, scomparso quest'anno. L'esercizio proprio nel 2021 compie un quarto di secolo. Non poteva esserci regalo migliore. Da quest'anno entrerà nel club dei rivenditori premium. La chiesa della Santissima Trinità Ponchiera svela i suoi segreti grazie all'architetto Patrizia Sichera e alla restauratrice di beni culturali Letizia Greppi. Paolo Croce ce ne parla nella sua rubrica del venerdì. Siamo a Ponchiera, alle porte di Sondro. Entriamo in punta di piedi nella splendida chiesa della Santissima Trinità. I primi storici documenti che parlano di questo luogo di culto si riferiscono al 1470. Difficile invece risalire alla data certa della sua costruzione. Ci accompagnano l'architetto Patrizia Sichera e la restauratrice di beni culturali Letizia Greppi che hanno curato i lavori di restauro degli interni. Siamo nella chiesa parrocchiale di Ponchiera. è intitolata la Santissima Trinità. È una chiesa di cui non si conoscono esattamente le origini e quindi noi ci guardiamo intorno. In tutti i casi, quando noi abbiamo il primo approccio, non guardiamo solo l'immobile, ma guardiamo il suo contesto. Cosa sappiamo? Sappiamo che il primo documento che la cita è del 1470. per un lascito da parte di un sacerdote che ha lasciato il lascito, per cui noi possiamo pensare che questo lascito per mantenere la chiesa potesse servire o per delle ricostruzioni, degli ampliamenti, non lo sappiamo. Noi sappiamo comunque che anche nel periodo grigione questo era un luogo cattolico rispetto agli abitanti di fronte di Mossini che invece erano per lo più protestanti. Prezioso il lavoro di restauro per una chiesa che ancora promette di svelarci tanto della nostra storia. In questo caso purtroppo il tetto aveva perso molta umidità, cioè aveva entrata molta umidità e ci si è trovati a un certo punto con questa parte del presbiterio che stava letteralmente esplodendo dai sali. Quindi quello che normalmente può succedere in una parete, ma però è una parete, è un intonaco normale, in questo caso gli stucchi preziosissimi del Seicento rischiavano di essere persi completamente. Quindi una volta risolto il problema sul tetto il lavoro che è stato fatto è stato innanzitutto quello di consolidare quello che era rimasto. Una volta consolidato ed eliminato tutta la presenza di sali quello che ci si è accorti subito era la bellezza di questo marmorino bianco seicentesco che emergeva sotto queste tinteggiature che erano state fatte anche recentemente anche con dei colori che sicuramente scuriti anche nel tempo però rabbuiavano molto anche l'edificio. Quindi una volta capito che il marmorino originale era bellissimo a quel punto con Patrizia si è deciso di quantomeno arrivare su questa porzione interessata a fare un lavoro di pulitura quindi eliminazione non solo dei sali ma anche di tutte le tinteggiature. A questo punto trovateci con metà presbiterio bianco sembrava così assurdo doverlo ricoprire con i colori per uniformarlo e tutto il resto. Quindi abbiamo proposto alla comunità che ha accolto molto favorevolmente l'idea di estendere la pulitura anche alla parte destra del presbiterio. E in teoria se tutto potesse essere possibile sarebbe bello ampliare proprio tutto questo lavoro di pulitura e riportare tutta la chiesa che è tutta così sicuramente bianca e luminosissima come se fosse un merletto a questa finitura originale seicentesca. E tra l'altro la bellezza di questi stucchi andrebbe sicuramente anche studiata e qui entra in gioco un'altra figura che è quella dello storico dell'arte che dovrebbe così integrare quello che è il compito mio dal punto di vista metodologico e di intervento e quello di Patrizia che è quello di studiare dal punto di vista strutturale nel contesto tutta una situazione ma in questo caso studiare dal punto di vista artistico un'opera e capire a chi può essere ricondotta. Cito gli studi che ci sono adesso da parte di Marco Bordoni sull'Ancona e gli studi sul crocifisso da parte di Pierangelo Melgara che è uscito recentemente anche in un articolo sui quaderni valtellinesi questi sono tutte persone che a titolo volontario si stanno mettendo a disposizione con le proprie competenze che comunque sono notevoli ma che avrebbero bisogno anche di nuova linfa per riuscire ad approfondire questi studi che sarebbero fondamentali perché Ponchiera è una chiesetta è una parrocchia, una comunità molto viva, molto unita che sta riscoprendo anche una nuova unità proprio con questi interventi perché si è fatta carico, nonostante la poca, è un paese molto piccolo però si è fatto carico di un intervento notevole anche economicamente dispendioso e che avrebbe proprio bisogno anche di una linfa proprio per riscoprire questi tesori che sono sconosciuti. Presentati ieri a Morbegno i progetti di servizio civile rivolti ai ragazzi di età compresa tra i 18 e i 28 anni nei 160 posti messi a disposizione dalle ACLI 4 sono riservati alla provincia di Sondrio bando attivo fino all'8 febbraio si tratta di percorsi determinanti per la formazione dei giovani vediamo Un segno di speranza per i giovani un'esperienza da vivere fino in fondo in grado di aprire potenzialmente nuovi scenari futuri Presentati nella sede ACLI di Morbegno i progetti di servizio civile rivolti a ragazzi dai 18 ai 28 anni 4 i posti riservati alla nostra provincia sulle 160 posizioni attivate in Lombardia dalle associazioni cristiane lavoratori italiani il servizio della durata di 12 mesi prevede un impegno di 25 ore settimanali riconosciute i partecipanti un indennizzo mensile pari a 439,50 euro la domanda dovrà essere presentata online entro l'8 febbraio 4 gli ambiti di intervento toccati dai progetti, giovani e famiglia, immigrazione, educazione e scolarità, animazione di comunità. Grazie a tutti, grazie a tutti. Il direttore di Enaip Morbegno, Giovanni Colombo, ha spiegato cosa può offrire un'esperienza di servizio civile, portando l'esempio positivo di una ragazza che ha seguito questo percorso. Il direttore di Enaip Morbegno, ha spiegato cosa può offrire un'esperienza di servizio civile, portando l'esempio positivo di una ragazza che ha seguito questo percorso. Bonus energia per una cinquantina di imprese della Val di Sotto, artigianali, agricole, commerciali e turistiche, a copertura del 10% delle spese sostenute in acquisto di energia elettrica. In arrivo anche altri 135.000 euro per le imprese del comprensorio sul capitolo aree interne. Roberta Cervi. Val di Sotto, comune virtuoso, dispone del bonus energia in conto esercizio per l'anno 2020. E in collaborazione con Confartigianato Imprese Sondrio, sostiene le attività economiche a qualifica artigiana, nonché i settori agricolo e terziario manifatturiere con domicilio legale o operativo in Val di Sotto dal 1 gennaio 2020. Fornendo entro il 30 aprile di quest'anno un tangibile supporto con la parziale copertura dei costi energetici. Già da tre anni che mette in campo, tende ad aiutare le imprese economiche, quindi le attività artigianali, le attività commerciali, i negozi. Ed è un aiuto stimato intorno a circa 35.000 euro all'anno. E consente l'abbattimento della spesa energetica di ogni attività del 10%. Quindi riconosciamo sulla spesa della bolletta energetica dell'anno 2020 in questo caso una riduzione del 10% in maniera tale che l'approvvigionamento energetico per le nostre attività e le nostre imprese sia meno gravoso. Fissato per il 28 febbraio il termine di presentazione delle istanze, una sola per ogni impresa. La spesa per l'energia elettrica è uno dei pesi maggiori. Ottimo il riscontro di adesioni, anche per un altro fatto. Lo abbiamo esteso anche alle attività commerciali e turistiche in maniera tale da includere la complessità di tutte le attività che abbiamo sul territorio. Devo dire che a livello di partecipazione arriviamo a sfiorare quasi alle 50 attività. Beneficia del bonus energia che è in regola coi contributi previdenziali. Non è destinatario di aiuti pubblici o soggetto ad amministrazione controllata, concordato preventivo o fallimento. In lista il pastificio dei pizzoccheri bosco, dalle metodologie artigianali che rende prodotti uguali al fresco. Utilizzando solo farina d'occa e acqua della sorgente Presurina, sorella della Livissima. Primo gruppo d'acquisto in Valtellina nel 1974, 3 milioni di fatturato l'anno, 15 dipendenti. Da quando il comune ha iniziato con questa possibilità, che ci ha dato questa possibilità di usufruire di questo contributo per abbassare il costo dell'energia elettrica, ne abbiamo approfittato. Ringraziamo comunque l'amministrazione comunale che ha dimostrato una sensibilità nei confronti dell'impresa, cosa non frequente, soprattutto nelle nostre aziende, che sono penalizzate già da una situazione geografica svantaggiata per quanto riguarda la logistica. E quindi un piccolo contributo è comunque apprezzabile al di là della quantificazione, ma è proprio il gesto che dà un incoraggiamento a noi imprenditori. Hanno presentato domanda anche agli albergatori della Baita De Mario, imprenditore scomparso tre anni fa, con 28 dipendenti, un fatturato inesistente nel 2020, causa chiusura attività per restrizioni dovute al Covid-19. Un modo della nostra amministrazione comunale per darci un aiuto e anche quest'anno approfittiamo di questo bonus energia che ci viene offerto e che quest'anno, anzi, essendo un anno abbastanza pesante, crediamo che sia anche utile riutilizzarlo nuovamente. La nostra categoria albergatori e ristoratori è veramente abbastanza approvata, fa fatica ad andare avanti. Ovviamente tutti gli incentivi, tutti i bonus, noi benvengano. Imprese tenute in palmo di mano grazie a ulteriori 135.000 euro, questa volta spalmati, eccezione fatta per Livigno, su tutti i comuni del comprensorio Alta Valtellina. Stiamo valutando insieme agli altri comuni di fare un bando congiunto, ognuno chiaramente tra il suo budget come comune per le sue attività, ma un bando con le stesse caratteristiche in maniera tale da aiutare comunque le attività sul territorio. Devo dire che questo è importante perché comunque siamo in un momento, in un frangente veramente difficile a causa della pandemia e riteniamo che il tessuto produttivo deve essere sensibilmente aiutato per stare in piedi e per ripartire, perché effettivamente è quello che è l'asse portante della nostra economia turistica soprattutto. Sebbene l'emergenza sanitaria renda tutto più difficile, Aido Sondrio prosegue incestante nel suo impegno e nella sua opera di sensibilizzazione, una partita che si gioca anche sui social per coinvolgere i giovani. Ne abbiamo parlato con Maurizio Leali, presidente provinciale Aido. Maurizio Leali, presidente provinciale Aido. Facciamo una fotografia della situazione. Aido è in forma. Cosa possiamo dire oggi? Allora, cominciamo col dire che Aido è presente sul territorio provinciale con una sezione provinciale con sede a Sondrio e con dieci gruppi comunali molto attivi sul territorio che vanno da Samolaco fino a Bormio. Diciamo che a livello di iscritti abbiamo superato i 9.400 iscritti, quindi è un dato importante che comunque noi puntiamo ad incrementare ancora di più superando quanto prima abbiamo voglia di superare la soglia dei 10.000 iscritti. Aido si sta muovendo sul territorio ovviamente con tutte le limitazioni legate alle problematiche del Covid. Ci stiamo muovendo ormai quasi prevalentemente in associazione con altre due associazioni in collegamento. Quindi ci stiamo muovendo con ADMO, con cui c'è un legame molto stretto ormai che si porta avanti da anni, e con Avis. Le tre associazioni noi le definiamo associazioni del dono. Associazioni del dono perché sostanzialmente le finalità sono le stesse, le motivazioni sono le stesse, i valori sono gli stessi. Quindi ci è sembrata una cosa molto utile quella di unire le forze per poter riuscire a dare un messaggio molto più incisivo e molto più chiaro alla popolazione. Ecco Presidente Leali, anche noi che facciamo informazioni in questi ultimi 12 mesi siamo concentrati molto sulla pandemia, sull'emergenza sanitaria. Però resta, e lo ribadiamo oggi con forza, il tema della donazione, il dovere di sensibilizzare anche i giovani, perché le donazioni sono tante ma sono ancora insufficienti. Dovremmo aumentare ulteriormente appunto questo numero. Assolutamente, la situazione attuale a livello di liste d'attesa, a livello nazionale, vede circa 8.300 persone in lista d'attesa. Tra queste 8.300 persone oltre 200 sono bambini e purtroppo di queste persone alcune centinaia muoiono, muoiono tutti gli anni, nell'assoluta indifferenza, muoiono perché non ricevono il tanto agognato organo. Su questo discorso qui stiamo facendo un bel lavoro con gli studenti, con i ragazzi, in collaborazione sempre con ADMO ed Avis abbiamo organizzato una piattaforma online che ci permette di incontrare i ragazzi, ne stiamo incontrando parecchi, di tutte le scuole superiori della provincia di Sondrio, con anche dei riscontri molto molto importanti e molto interessanti. I ragazzi sono interessati alle tematiche ma ovviamente devono essere informati perché se non sei informato non puoi decidere e sono molto sensibili al tema. La cosa che noi chiediamo, che sollecitiamo a tutti i giovani e non giovani è quella di schierarsi, cioè di capire che comunque c'è un'emergenza, un'emergenza di natura sociale, di natura etica e in questi casi bisogna comunque schierarsi, bisogna decidere se si vuole o no dare una mano a risolvere questo tipo di problema. E allora concludiamo questo spazio informativo ricordando appunto l'associazione AIDO il vostro grande impegno e l'augurio di tornare presto in una vita normale grazie al vaccino e di ritrovarci a fare il gazebo, a fare le manifestazioni sportive, a fare i dibattiti, andare nelle scuole, insomma tornare a quello che facevamo prima perché è giusto così ed è importante. E' sicuramente anche il nostro auspicio e approfitto per salutare tutti i cittadini della provincia di Sondria. E ora come di consueto il bollettino di Vometeo di Arpa Lombardia. I forti venti di questi giorni hanno determinato un innevamento alquanto regolare sulle montagne lombarde con creste e dorsali molto erose e significativi accumuli di lastrone in conche, canali e vallamenti con spessori molto importanti soprattutto sulle alpi retiche. I lastroni non sempre riconoscibili possono cedere spontaneamente o alla sollecitazione anche di un singolo escursionista. A coloro che intraprenderanno gite escursionistiche durante il fine settimana si consiglia di massima prudenza nella scelta dell'itinerario e di percorrere zone boscate evitando quindi ripidi pendii ed eventuali anche radure molto ripidi. È tutto, grazie per averci seguiti e arrivederci ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Telesondrio News. Buona serata. Grazie a tutti.